Bene, vogliamo accedere alla nostra area personale, quindi posso andare dalla home page a scegliere iscrizione oppure da qualsiasi altra parte anche cliccando su iscrizione su questa pagina e atterro sempre sull'area personale. L'area personale devo loggarmi, uso la mia email che avevo precedentemente memorizzato, accedo ed ecco che siamo nell'area riservata dove ci sono le sessioni di camp, dove ci si può iscrivere, dove si può cambiare la password o si può fare il log out e ci sono anche tutte quelle iscrizioni che io ho fatto precedentemente come prove, ma anche quelle vecchie negli anni, quindi il camp del 2018 e altre prove. Quindi io ho un'area in cui mi posso iscrivere, quindi cliccando qui posso andare a scegliere a compilare il form online essendo un giocatore, scegliendo le settimane e le sessioni, compilando tutti i dati che sono richiesti dal sistema. Una volta che poi c'è l'iscrizione si seguono le istruzioni. molto semplice anche il discorso di come andare a... torno indietro... ok... dal di qui è un'area testa... allora per quel che riguarda la visualizzazione delle informazioni e delle azioni che ho fatto. Allora... vede l'istruzione è l'iscrizione che ho fatto precedentemente, mentre per quel che riguarda il caricamento e la trasmissione dei dati come il certificato medico va cliccato su carica documenti, si sceglie il file e lo si allega, lo si invia e il paga online novità assoluta dove puoi pagare l'acconto di 200 euro attraverso questa modalità. Quindi è un'area testa naturalmente i vari... i vari circuiti accettati numericati come qualsiasi e-commerce website. Molto semplice, per qualsiasi informazioni o altro, non esitare a chiamarci, a scrivere e ti assisteremo nella tua iscrizione. Grazie.